Un cordiale saluto. Analisi generale con previsioni nazionali per mercoledì 31 agosto 2022 e tendenza fino alle 72 ore a cura di Meteograd. Situazione ed evoluzione generale su scala euro-mediterranea. Una zona anticiclonica tra l'Atlantico settentrionale ed il centro-nord Europa alimenta sul suo bordo meridionale un flusso zonale di matrice oceanica che investirà l'Europa centrale ed in seguito anche l'area alto-mediterranea. Su queste zone si avranno passaggi instabili accompagnati da precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. Temperature in linea con le medie o leggermente più alte sui settori iberici meridionali. Previsioni meteo in area italiana per mercoledì 31 agosto 2022. Nord. Nubi sparse con addensamenti a tratti compatti ed associati a rovesci o temporali. La fenomenologia sarà concentrata sui settori alpini ed appenninici con interessamento in mattinata anche delle zone pianeggianti centro-orientali. Centro. Irregolarmente nuvoloso con temporali al mattino sui settori toscani e nel pomeriggio sui rilievi. La fenomenologia potrebbe risultare a tratti intensa sull'appennino tosco-emiliano con sconfinamenti sulle interne adriatiche. Sud e isole. Instabile sui settori basso-tirrenici ed appenninici con precipitazioni temporalesche a tratti intense e diffuse. Generalmente asciutto sulle rimanenti zone con nuvolosità irregolare. Ampie schiarite ovunque dalla sera. Temperature massime in lieve diminuzione al nord e nelle zone interessate dai temporali pomeridiani. Minime in generale aumento grazie alla copertura nuvolosa abbastanza diffusa nottetempo. Ventilazione debole tra ovest e nord-ovest con dei locali rinforzi nel corso dei temporali. Mari da poco mossi a localmente mossi sui settori ionici. Concludiamo con la tendenza su scala nazionale estesa fino alle 72 ore. Una depressione in ingresso dalla Francia determinerà un peggioramento del tempo nella giornata di giovedì al nord ed in successivo spostamento al centro. Il tutto sarà accompagnato da precipitazioni a prevalente carattere temporalesco anche di forte intensità con fattibili grandinate. Temporane attenuazione della fenomenologia nella giornata di venerdì con alternanza di schiarite ed annuvolamenti accompagnati da qualche piovasco. Grazie a tutti della vostra attenzione. Non dimenticarti di iscriverti al canale e di attivare la campanellina per ricevere le previsioni aggiornate.